Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news, di informazioni, di indiscrezioni ma soprattutto di rumors su Call of Duty Black Ops 3. La notizia che vi sto per riportare, l'indiscrezione che vi sto per riportare è veramente delle ultimissime ore se non degli ultimissimi minuti. In rete sta circolando quello che sembra essere un poster legato a Call of Duty Black Ops 3 che riporta la data di uscita, 6 novembre 2015. A vedere questo poster è come se Black Ops 3 sarà disponibile solamente per next gen, quindi PS4, Xbox One e PC. Non c'è nessuna menzione legata all'old gen, però come vi dico sempre, secondo me questa cosa non sarà così perché verrà fatto ovviamente da uno studio associato, una conversione anche per PS3 e Xbox 360. Di questo sinceramente ci metterei la mano sul fuoco. Questo poster, oltre a riportare il discorso della data di rilascio, quindi venerdì 6 novembre 2015, parla di una beta. Avete capito bene? Praticamente per gli utenti che faranno il preorder di Call of Duty Black Ops 3 avranno l'accesso a Black Ops 3 versione beta. Però praticamente questa versione di Call of Duty Black Ops 3 è riservata solamente a PS4, Xbox One e PC, leggendo sempre questo poster. Una cosa molto importante è che tutte le informazioni legate appunto a questa beta appariranno sul sito callofduty.com slash beta che al momento però non è ancora online. Quindi da capire se questo poster che sta girando in rete veramente riporta le informazioni veritiere, veramente ci sarà questa data di uscita il 6 novembre 2015, veramente ci sarà questa beta. E veramente sarà solamente dedicata alle versioni next gen e PC. Ovviamente tornerò nuovamente sull'argomento non appena questo rumor verrà confermato o smentito proprio domenica 26 aprile 2015. E se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sulla mia pagina di YouTube. E ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie.